Il Presidente del Senato ha presentato il trofeo alla squadra che si aggiudica per la quarta consecutiva la Coppa Italia, 4-0 al Milan. In questa serata si è accesa sul piano anche nel ritro delle emozioni del secondo tempo dopo una prima metà della sfida equilibrata con incertezza e poi da un corner, la rete ha prescatole.